Ciao a tutti, buongiorno, bentrovati, scusate la mia voce ma sono raffreddatissima, non ho il covid, l'ho già avuto. Allora, stamani volevo parlarvi di sempre una posizione riguardante il loto, Garbapindasana. Allora, Garbapindasana è una posizione difficilina da prendere, soprattutto per chi non ha loto. Quindi io stamani vi faccio vedere la posizione, come dobbiamo prenderla, ovviamente avendo il loto, le propedeutiche poi sono non farlo, nel senso fare metà loto, fare le gambe incrociate e tenere su. Ma allora, per riuscire a chiudere Garbapindasana, io in genere mi doto di una maglia a maniche lunghe. Perché? Perché molti mi hanno chiesto, ma non usi l'acqua, usi l'olio? No, uso una maglia a maniche lunghe. Nel senso che non uso niente da spruzzarmi addosso. Ho trovato più efficace utilizzare la maglia a maniche lunghe e adesso vi spiego perché. Vi faccio vedere la modalità con cui io l'ho appreso in India, ok? Quindi, in genere, io lo insegno in questo modo. Andiamo ad afferrare la prima gamba. Ovviamente, qual è la prima gamba? Dovete già sapere qual è la vostra modalità più comoda per chiudere il loto. Per me è la destra, la prima gamba, più facile. Quindi, la prima gamba la porto vicina alla spalla e la vado a bloccare, in questo modo qui, ok? Il piede lo porto nel mezzo loto e porto la mano a terra, in questo caso. Il piede sinistro, cioè qui avete bisogno di una bella apertura di anca, quindi dovete spingere fuori il ginocchio. E il piede lo porto sotto l'ascella, ok? Qui sotto l'ascella, non davanti, ma sotto, ok? Quindi, intanto dovete riuscire a capire questo passaggio. Nel caso in cui la mia gamba non riuscisse ad arrivare alta, perché più è alta, più rimane chiuso. Quindi più siete qui, quando poi andate a chiuderlo in maniera definitiva. Più la gamba è bassa, più dovrete scavare con il braccio, poi dopo, una volta che l'avete chiuso. Ma nel caso in cui non vi arrivi alta, si porta a bassa. Quindi la possiamo portare anche in questa modalità qui. E con il piede, sempre il piede afferriamo all'esterno, non l'alluce, non si va a fare questa cosa qua. Si afferra il piede. Il piede lo facciamo passare sotto l'ascella. Io ricordo che le prime volte che l'ho fatto, ho avuto poi del risentimento in questo punto. Ma perché? Perché non c'era abbastanza flessibilità a livello di caviglia. Comunque, allora, nel caso in cui riusciate a portarlo alto, lo portate verso la spalla. Se non riuscite a portarlo alto, lo portate un pochino più basso. Quindi, chiudo la prima gamba, la chiudo bene, tengo e porto giù la mano. La seconda gamba, afferro il piede e lo porto sotto l'ascella, quindi tra il braccio e il petto. Qui entra in gioco, finché non imparate a farlo, la maglia, che in realtà avrei dovuto infilare prima. Però non è importante, si riesce. Quando si impara a fare yoga, si riesce anche ad affilare le maglie in questo modo. Fate in modo che la maglia rimanga bloccata alla vostra mano. Sembrava un mappetto. Allora, da qui, quello che dobbiamo fare è fare in modo di far scivolare la mano vicinissima al collo del piede, proprio come se fosse un guanto. No dentro il polpaccio, perché se lo fate al polpaccio non ci passate. Questa parte qui è molto chiusa, quindi non c'è tanto spazio. Lo spazio c'è qui, sulla parte più vicina al collo del piede. Ok, vedete? Faccio entrare la mano, mi trascino la maglia e all'inizio questo è il gioco che vado a fare. Poi chiudo, perché in garba pindasana dovete chiudere il più possibile. Una volta che avete capito come funziona, lo fate senza la maglia. A quel punto sapete dove dovete passare, come dovete scivolare. Per riuscire a tenere garba pindasana alta, dovete fare in modo di chiudere il più possibile le ginocchia. Va benissimo anche nell'ultima fase, cioè una volta che siete passati con il braccio, andate a trascinare, quindi scavate tanto in modo da portare le gambe alte per poterlo poi chiudere. Quindi, alto, chiudo, primo passaggio. Secondo passaggio, porto il piede sotto l'ascella. Terzo passaggio, passo all'interno e chiudo subito il loto. Ok, lo chiudo da entrambe le parti e una volta che sono qui, cerco di mantenere la stabilità, come avete visto stavo andando indietro. Schiena drittissima, mento sulle mani. La schiena dritta. Se curvate la schiena, andate indietro. Quindi, quando fate il passaggio di chiusura, forti gli addominali, forte mula banda. E da qui, mani. E ciao. Spero vi possa servire. Buona pratica a tutti. Adesso mi devo sciogliere. Ciao.